DS3 Cabrio è una compatta francese che punta tutto su una silhouette raffinata, un'ampia possibilità di personalizzazione e motori tanto brillanti quanto parsimoniosi. L'elegante capote in tela è azionabile elettricamente fino a 120 km orari e all'interno l'ambiente è raffinato e ricercato grazie all'utilizzo di materiali di ottima qualità ben assemblati tra loro. La gamma propulsori è ampia e ben collaudata con potenze che variano da 99 sino a 208 cavalli. La piccola Cabrio è già disponibile presso i concessionari del marchio francese con un prezzo che parte per la versione benzina da 23.000 euro e per la versione diesel da 25.150 euro.